Dicci la tua. Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione. Puoi trovare le trascrizioni in italiano e in inglese per seguire meglio l'audio. Buon ascolto! Una famiglia distrutta dallo Stato Islamico in Iraq sta cercando di raccogliere i pezzi e ricostruire una vita in Australia. Ma la madre della famiglia racconta che c'è ancora un pezzo mancante. Shevan, nome di fantasia, venne rapito nel 2014 quando lo Stato Islamico attaccò Sinjar, la città d'origine della famiglia in Iraq. La sua famiglia venne condotta in schiavitù insieme a migliaia di altre persone della minoranza religiosa Yazidis. Shevan venne preso da parte e costretto a diventare un bambino soldato per il gruppo terroristico. Parlando a SBS da un campo rifugiati nel nord dell'Iraq, Shevan ha raccontato di aver compiuto 18 anni e di essere stato liberato all'inizio del anno, ma che non era stato in grado di scappare prima di allora. Shevan ha detto di essere stato interrogato da un funzionario australiano sulla sua richiesta di raggiungere la sua famiglia e di avere un bisogno disperato di vedere sua madre. Il Ministero degli Interni non ha confermato se la richiesta dell'adolescente sia sotto esame, dichiarando di non commentare su casi individuali. Il Ministro degli Interni, Peter Dutton, ha aggiunto che non rilascerà commenti su casi specifici, ma che alcuni individui sono stati sottoposti a delle esperienze terribili dallo Stato islamico. L'avvocato per i rifugiati di Human Rights for All, Alison Bettison, ha dichiarato che ci sono dei precedenti in cui l'Australia ha accettato persone che avevano combattuto come bambini soldato. Il direttore del Counter Terrorism Policy Center al Australian Strategy Policy Institute, Isaac Kfir, ha dichiarato che, sebbene non tutti i bambini catturati dallo Stato islamico siano stati radicalizzati e pongano dei rischi alla sicurezza potenziali, alcuni lo potrebbero essere. per la madre di Schwann non sarà mai troppo presto per rivedere suo figlio. Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian. Grazie a tutti.